Ciao a tutti e ciao a tutti, un aggiornamento velocissimo sui lavori di questa settimana. Sapete che c'è in votazione un testo a cui tengo molto molto importante, che è il testo che ci consentirà appunto, una volta approvato, di lavorare per includere la violenza di genere tra i cosiddetti eurocrimini, che sono crimini particolarmente gravi, particolarmente odiosi, il riciclaggio, la tratta degli esseri umani, la criminalità organizzata. Noi vogliamo aggiungere anche la violenza di genere tra questi crimini, su cui l'Unione Europea ha un potere vincolante, appunto, di vincolare quindi gli stati membri ad una serie di azioni comuni e minime, quindi uguali per tutti quanti. Pensiamo che sia un fatto particolarmente significativo, particolarmente importante, perché, come sapete, la violenza di genere è diventata una vera e propria emergenza drammatica. Questa settimana in Italia sette donne hanno perso la vita.